Fratelli miei nerazzurri, buongiorno a tutti voi! Vi abbraccio veramente fortissimo ragazzi, uno ad uno, perché oggi si gode! Oggi si gode! E non potevano iniziare questo video in questo modo. La canzoncina ragazzi, la musichetta della Champions, finalmente! Ieri sentirla nel post partita a caldo è stata un'emozione indescrivibile, veramente, mi sono emozionato, ho pianto non me ne vergogno, non me ne vergogno perché essere interisti è una cosa stupenda stupenda, sono stati sette anni difficili perché ho pianto, alcuni di voi mi hanno detto piangi per così poco ragazzi, le lacrime non possono essere motivate le lacrime è una reazione emotiva ieri mi piaceva fare il video così non ho voluto fermarmi per poi calmarmi e fare un video così no, il bello è proprio esternare queste emozioni quindi è bello che noi tifosi interisti oggi siamo tutti uniti e magari magari essere sempre così perché per me questo è il bello del calcio prima di fare i complimenti alla mia squadra però volevo fare un grandissimo in culo a tutti i gufi tutti quei gufi che ieri hanno tifato Lazio che ieri erano laziali che hanno urlato allo scandalo i giuventini in primis ma anche i milanisti ho visto colleghi youtubers veramente ridicoli io non li etichetto mai i miei colleghi perché ho il rispetto di tutti i miei colleghi anche di persone che non conoscono però veramente dire che ieri è stata la morte del calcio eccetera eccetera e blatterare cazzate simili per quale motivo? perché De Fri ha fatto un calcio di rigore al 75esimo analizziamo la partita di De Fri De Fri fino al 70esimo è stato il migliore in campo in maniera indiscussa Icardi è stato annullato totalmente fino al 70esimo da De Fri migliore in campo poi cosa succede? sbaglia Stracoscia sbaglia Stracoscia non De Fri perché la difesa si apre quando il portiere ha il pallone ABC del calcio ABC del calcio per ricevere gli smistamenti del portiere la difesa si deve aprire Stracoscia sbaglia il rinvio lo fa corto Eder prende palla lancia Icardi in profondità lì si trova quasi a tu per tu col portiere De Fri quindi è in ritardo perché si è dovuto allargare quindi si è buttato a peso morto per raggiungere la posizione Icardi furbescamente non ha calciato lo ha aggirato è stato agganciato da De Fri rigore ma dinamica di gioco proprio così accidentale e cose che succedono se De Fri ieri avesse voluto fare lo stronzo faceva con una trattenuta in area di rigore su un calcio d'angolo prendeva uno e lo tirava giù doveva addirittura studiare la dinamica no per 70 minuti io faccio la partita perfetta poi gli ultimi 10 minuti che comunque 2 a 2 passava la Lazio in Champions ricordiamolo ricordiamo 2 a 2 andava la Lazio in Champions ieri addirittura la morte del calcio cazzo ma è così difficile dire abbiamo speso 300 milioni e siamo in Europa League onore ai nostri cugini che con un mercato fatto da 2 peperoni 2 melanzane 2 patate sono andati in Champions è così difficile ammetterlo così difficile quindi non rosicate non rosicate a me queste cose fatte così mi fanno veramente ridere però allo stesso tempo mi fanno godere ancora di più perché mi fanno capire che è bastato un quarto posto dell'Inter quarto posto dell'Inter per farvi rosicare così tanto ieri ho visto Chirico noto tifoso juventino che ovviamente avrà festeggiato giustamente il suo scudetto sono 7 anni di fila che vince lo scudetto ma c'è un fermo immagine ragazzi che spettacolare sul risultato di Inter Lazio 2 a 3 viene inquadrato Chirico fermo immagine così proprio un funerale hai vinto lo scudetto da 7 anni di fila ti sei rovinato la domenica la giornata per colpa del quarto posto dell'Inter pensa a te noi quanto siamo importanti ancora ragazzi quanto siamo importanti perché questi per rosicare così tanto per un quarto posto dell'Inter addirittura per non godere le loro vittorie vuol dire che l'Inter è ancora importante e adesso questo è l'inizio questo deve essere l'inizio proprio perché alla faccia di questi gufi qua e adesso voglio una squadra sempre più forte negli anni sempre più forte perché immaginarsi poi in caso anche di una vittoria di una Coppa Italia perché io adesso è quello che vorrei vedere dall'Inter iniziare a duellare per sollevare qualche trofeo iniziando da una Coppa Italia che non fa mai male sarebbe già un grande inizio detto questo onore grandissimo ai ragazzi ieri non è stata una bella partita secondo me l'Inter è stato in balia della Lazio lo ammetto per 70 minuti ma anche qua ma non abbiamo meritato ma non abbiamo meritato cosa ma non abbiamo meritato cosa le partite finiscono al novantesimo ragazzi belli miei le partite finiscono al novantesimo per 70 minuti la Lazio è dominato probabilmente è vero soprattutto il primo tempo non ci abbiamo capito nulla Milinkovic c'è una roba veramente stratosferica io vorrei lui come regalo per la Champions sarebbe un acquisto stratosferico ma so che è impossibile se la Lazio Polla lei aveva il match point con il Crotone apro parentesi grande Valterone Zenga perché grazie a te che ci siamo giocati in questa partita pensate il calcio com'è Laziali se voi aveste vinto col Crotone settimana scorsa noi ieri venivamo a Roma a darvi la manina a dirvi complimenti vi siete meritati la Champions avete fallito il primo match point con quel cattivone di De Frai poi che ha salvato sulla linea l'interista vi ha salvato il culo con l'Atalanta vi ha salvato il culo col Crotone eccetera eccetera e vabbè lasciamo perdere ieri in vantaggio due volte avete preso tre gol su tre calci piazzati di cosa parliamo è colpa dell'Inter questa ma questa è colpa dell'Inter è colpa vostra che siete stati polli siete stati polli come abbiamo perso noi con la Juve che abbiamo dominato poi vabbè là una partita a sé arbitro orsato è inutile tornarci però siamo stati polli anche a prendere due gol nel finale no? bastava difendere un po' meglio tu col 2-2 caro Laziale comunque ci andavi in Champions e poi hai perso la testa hai preso tre gol da calcio piazzato è colpa dell'Inter è colpa mia è colpa tua e l'Inter si è meritata di andare in Champions perché una squadra che fallisce così tanti match point in Champions non ci può andare mi dispiace ce lo siamo meritati noi per fortuna per fortuna sono veramente strafelice ragazzi per i giocatori per Cansele in primis alla faccia di quelli che dicevano Cansele non ci tiene ho visto ieri Cansele degli spogliatori scatenato urlare ama la forza Inter Champions League insomma mi sembrano segnali di un giocatore che vuole restare comunque all'Inter tant'è vero che ha detto non dipende da me dipende da Inter da Inter e Valencia il mio futuro e qui mi auguro mi auguro che la mia proprietà veramente dimostri anche con i fatti di tenerci all'Inter perché ieri ho visto le lacrime di Zancho mi hanno fatto sicuramente piacere perché quando piangi tu e vedi anche un'altra persona piangere in quel momento c'è una sorta di connessione emotiva però che dalla mia proprietà voglio adesso dimostranze dimostrazioni nei fatti il riscatto di Cancelo ragazzi Rafinha sarebbe fondamentale secondo me perché sono due pedine fondamentali per l'Inter a quanto ho capito quello di Rafinha verrà fatto quello di Cancelo c'è qualche dubbio in più io mi auguro tutti e due perché veramente l'Inter ha avuto un senso con Cancelo Rafinha con questi due in campo con questi due in campo ci siamo avvicinati a un livello veramente da Champions considerato poi gli acquisti che già abbiamo fatto sarebbe un grandissimo inizio volevo fare i complimenti a tutti i miei giocatori Skriniar veramente anche lui oggi è stato strepitoso l'ho visto esultare con i tifosi mi ha fatto immensamente piacere ma soprattutto volevo fare i complimenti a Luciano Spalletti perché Spalletti è riuscito nell'impresa dove nessuno prima di lui nessuno prima di lui è riuscito a fare quello che ha fatto lui diamo meriti a Luciano Spalletti ragazzi perché fare l'allenatore non è solo mettere il terzino in una posizione giusta mettere Borca Valera anziché trequartista lo dovevi mettere mediano abbiamo capito Cancelo non può giocare a sinistra e qualche partita è andata a sinistra è vero Spalletti stesso ha ammesso che tatticamente ha fatto qualche cazzata e qualche cosa l'ha capito in ritardo ma l'allenatore è un mestiere a 360 gradi l'allenatore è uno psicologo l'allenatore è un compagno di vita l'allenatore deve trovare la giusta chiave per entrare nel cuore e nella testa del suo gruppo e lui c'è riuscito lui c'è riuscito gli altri no gli altri prima di lui no lui c'è riuscito e in campo vedo l'Inter di Spalletti nel bene e nel male nel bene e nel male l'ho vista quindi io dico un grazie gigantesco anche al mister Luciano Spalletti ieri anche lui su di giri nel finale di partita ti ringrazio mister veramente perché per me hai fatto una piccola impresa hai compattato il gruppo hai trovato veramente le giuste chiavi per entrare nei meccanismi giusti del gruppo e siamo in Champions ragazzi siamo in Champions quindi è la cosa più importante è la cosa più importante siamo in Champions non voglio sentire litigi persone che litigano sto già sentendo di cosa litigate obiettivo raggiunto da oggi in poi si inizia a progettare l'Inter del futuro io colgo l'occasione per dirvi che torno a fare live vi ringrazio di cuore alle due e mezza eravamo tantissimi ieri notte veramente mi ha fatto immensamente piacere torno a fare live ragazzi ma soprattutto noi torniamo in Champions e vi saluto con questa musichetta la musichetta ragazzi ci siamo anche noi in Champions un saluto a tutti amici iscrivetevi al canale attivate la campanella ci sentiamo per nuovi video nuove live sempre amala e siamo in Champions ciao ragazzi grazie a tutti